A tutti benvenuti in nuova edizione del nostro telegiornale. L'anno accademico 2016-2017 è partito col piede giusto. Al Consorzio 1 di Oristano le iscrizioni sono in aumento, come anche gli studenti provenienti dal resto dell'isola. Nonostante le difficoltà economiche e i fondi non sempre sufficienti a coprire costi gestionali, il Consorzio 1 di Oristano prosegue il suo cammino. La sede gemmata degli Atenei di Cagliari e Sassari cresce di anno in anno e i suoi numeri sembrano da ragione anche a sempre creduto nelle sue potenzialità. Quest'anno per la prima volta abbiamo superato i 200 iscritti al primo anno. Quindi in sostanza i nostri corsi continuano ad essere attrattivi e a raccogliere adesioni da tutta la Sardegna. Nel senso che rispetto a diversi anni fa la composizione della popolazione studentesca è cambiata in maniera significativa. Sono aumentati gli studenti neodiplomati, cioè che hanno conseguito la maturità quest'anno e sono aumentati moltissimo i ragazzi provenienti dal resto della Sardegna. Per cui non è più un'università di oristanesi soltanto, ma è un'università di tutti i sardi. I corsi sono gli stessi proposti lo scorso anno, variegati e proiettati verso gli orizzonti lavorativi dei futuri dottori. I corsi continuiamo a confermare la stessa offerta didattica, quindi il corso in economia e gestione dei servizi turistici triennale di Cagliari, dell'Università di Cagliari. Poi abbiamo il corso di biotecnologie industriali, sempre dell'Università di Cagliari. È il corso di tecnologie viticole enologiche e alimentari dell'Università di Sassari, che si divide poi in due indirizzi, quello di viticoltura e enologia e quello di tecnologie alimentari. E poi abbiamo la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, quest'anno con l'apertura dell'indirizzo di archeologia subacquea, che ha raccolto un numero di studenti, non particolarmente numeroso, ma interessante, perché provengono anche da fuori Sardegna, da fuori Isola e da fuori Italia. Un'applicazione per risolvere i problemi e le difficoltà a cui un Ateneo può andare incontro, a crearla l'associazione cagliaritana Need for Ned, che grazie a una start-up organizzata i corsi appositi, iniziativa, che ha visto coinvolti anche gli studenti del Consorzio 1 di Oristano. Allora vediamo come. I giovani sono spessissimo, promotori di idee, come è il caso della vostra associazione, età media dei ragazzi che ne fanno parte 25 anni, che cosa avete progettato? Noi ci chiamiamo Need for Nerd, siamo una start-up di Cagliari, facciamo eventi riguardo la programmazione e il mondo digitale. Noi crediamo nella divulgazione della programmazione, soprattutto nell'alfabetizzazione della programmazione, per questo facciamo corsi di programmazione per bambini, adulti, hackathon, come quello che stiamo facendo qua a Oristano. Qual Consorzio 1? E in pratica di cosa si tratta? In pratica abbiamo chiesto al Consorzio 1 che tipo di problemi avevano. Loro ci hanno spiegato come hanno difficoltà a far arrivare determinate informazioni a tutti gli studenti, quindi abbiamo deciso di proporre loro un hackathon in modo da coinvolgere studenti di Oristano, che anche loro hanno dei bisogni, in modo che loro possano sviluppare un'applicazione dell'Università di Oristano. Sarai uno degli studenti che sta prendendo parte a questo corso, come lo trovi? Allora, per ora è interessante, mi sto affacciando a una realtà che comunque non ho mai affrontato, che è appunto la creazione delle app, e anche creare la creazione di idee, perché magari oltre a quello che è il Consorzio, la pagina del Consorzio ha già, magari loro vogliono anche che noi creiamo qualcosa di diverso, di innovativo, approfondiamo alcune tematiche che non ci sono. Naturalmente non saranno delle conoscenze fino a se stesse, però una volta lasciata l'Università, una volta laureati, nel mondo del lavoro si potranno utilizzare. Esatto, soprattutto ci aiuteranno a lavorare in team, che è una tematica che non affrontiamo nella facoltà. Magari possiamo organizzare gruppi di studio, però non abbiamo l'opportunità di lavorare assieme, di confrontare le nostre idee. Poi ovviamente dipende anche da che lavoro una persona o uno studente vorrà svolgere, una volta che avrà finito gli studi, magari sarà più interessato a sviluppare la parte di marketing, o ancora lo sviluppo delle app, quindi a livello informatico. Ci saranno tante strade da scegliere, insomma. Esatto, si spera. E siamo alla cronaca, il personale del Corpo Forestale ha sorpreso in flagranza di reato un uomo di 45 anni di Marrubio, intento a tagliare pianti di eucaliptus con una motosega in proprietà privata, nella località Accioio Piscus, del comune di Santa Giusta. Parte della legna risultava già caricata su un motocarro. L'uomo è stato denunciato e rischia una condanna variabile da sei mesi a tre anni, una multa da 154 a 516 euro. Il personale del Corpo Forestale ha intensificato i controlli a seguito di numerosi furti di legna segnalati da enti pubblici, in particolare la Ore ed SBS, da diversi cittadini, proprietari di rimboschimenti nei comuni di Santa Giusta. Marrubio e Arborea. E ieri invece presentazione ufficiale per la Pariglia che guiderà la divertente Sartiglia degli Asini a Oristano. Vediamo alcune immagini del componidore Simone Cadoni e dei suoi compagni invitati dal presidente Antonio Madeddu. E come vedrete quest'anno una donna nella Pariglia di testa. La vediamo. Gratulazioni al gruppo. C'è stata scelta la pariglia di testa. Sono molto contenta. Siamo molto contenta. Grazie! Il bando di selezione pubblica per la copertura a tempo determinato e a tempo pieno di due posti di istruttore geometra categoria C1 da destinare al settore programmazione, gestione risorse e servizi culturali. La scadenza sarà entro il 12 dicembre 2016. Anche il comitato Furia Rossa di Oristano sarà la manifestazione di mercoledì prossimo a Capofrasca, diciamo non alle basi militari perché bloccano lo sviluppo. Ci siamo fin dall'inizio in questo percorso di assemblee perché abbiamo capito che questo percorso però sta riuscendo a unire tutti quanti i gruppi che prima non si parlavano però hanno a cuore lo stesso tema, cioè la dismissione delle basi in Sardegna e quindi ci siamo fin dall'inizio e ci saremo anche mercoledì. La logistica dal punto di vista dell'organizzazione che cosa prevede? Sì, allora noi stiamo organizzando i pullman da Oristano per arrivare tutti insieme e tornare tutti insieme. La manifestazione, credo siano state già portate le richieste da quest'ora di Cagliari, partirà dopo il ponte di Marcedì, quindi dal punto in cui si incrocia la provinciale che va verso Pistis e la strada che arriva al ponte di Marcedì. Quello è il punto di partenza, ci sarà un momento di sosta per parlare, per intervenire al cancello, la madonnina, quindi proprio all'ingresso della basi e poi è stata richiesta l'utilizzazione per correre tutto il perimetro sulla strada che conduce fino a Pistis e poi da Pistis a Pistis termina il corteo. Per dire no alle basi, perché no? Un motivo? Un motivo c'è tantissimi perché frenano lo sviluppo della Sardegna, frenano lo sviluppo e non permettono di utilizzare terre, acqua, perché poi lo sappiamo c'è stato anche il problema del mare occupato durante le esercitazioni e rubano risorse che dovremmo decidere noi come gestire, non il Ministero della Difesa. Oggi ad Arborea, cena di solidarietà per sostenere la lotta ai tumori, ad organizzare la sezione oristanese Lilt presso il centro feristico. L'obiettivo è quello di raccogliere fondi per la prevenzione oncologica. Grazie a eventi come questo, spiega la presidente della Lilt di Oristano, Eralda Liccheri, siamo in grado di portare avanti le attività di informazioni su stili di vita più sani e le visite che permettono una diagnosi precoce dei tumori. E ieri al Teatro San Martino di Oristano, il convegno dedicato al benessere femminile, si è parlato di nuove tecnologie nella cura fisica della donna. Mariana Guarna ha intervistato la ginecologa Magda San Marco, il vice sindaco Giuseppina Uda, il comune, ha patrocinato l'evento. Per fortuna adesso abbiamo la possibilità di poter scegliere di stare bene, di poter scegliere di essere belle, di essere in forma, di poter andare avanti, appunto fare le mamme, però fare le mogli, lavorare, tutto nella salute, nel benessere, che come appunto definisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non è un'assenza di malattie bassa, ma è proprio lo stare bene con noi stesse, cioè la possibilità di avere uno spazio per essere belle, per fare movimento, per mangiare sano, per cocolarci, diciamo, per riservarci finalmente nella nostra vita uno spazio che ci concederà e che ci consentirà soprattutto di essere delle brave mamme, delle brave professioniste, delle persone che migliorano la società. Il Centro Medici del Benessere è appunto nato mettendo al centro, come fulcro dello studio, il paziente con tutte le sue esigenze. In Cina il medico viene pagato, nei paesini cinesi, in qualcuno di questi, il medico viene pagato perché il paziente non si ammala, quando il paziente si ammala non lo paga più il medico di base, lo Stato. Questa è un po' la nostra filosofia di vita, noi ti vogliamo tenere sano, vogliamo che tu stia bene, vogliamo aiutarti anche nella malattia, perché comunque passiamo sempre... la cosa importante è che siamo dei medici prima di tutto, per quello degli specialisti della salute, nel mantenerla e nel curarla. La cosa bella che mi piace è che da qui sono nate davvero tantissime idee, tantissime prospettive di crescita per la città e per le donne, per il mondo delle donne. Il benessere delle donne parte ed è essenzialmente il benessere anche della vita familiare, quindi questo è quello che è emerso da questa discussione e noi, io mi sento davvero di voler rappresentare questo interesse, perché è un tema di grande importanza, che merita grande, grande interesse, quindi faremo la nostra parte. Dopo la sfiorata crisi politica, la maggioranza del Comune di Bosa sembra aver ritrovato serenità. E allora sentiamo Pier Gavino Vacca. Mentre non si conosce ancora la data del prossimo Consiglio Comunale, da alcuni segnali sembra ricomporsi almeno in parte la crisi del Comune di Bosa. La crisi aveva dato i primi segnali all'ottobre, quando il partito sardo d'azione con un documento polemico rendeva noto di voler abbandonare la maggioranza. Le motivazioni erano quelle di aver tradito il patto fra i partiti della maggioranza con una estromissione delle decisioni dalla coalizione, soprattutto per quanto riguarda il programma espresso nel DUP. Dalle decisioni del partito si disgustavano subito però i due consiglieri del PSDATS, Rosa Maser ed Alfonso Campus, quest'ultimo eletto nella lista come indipendente e designato come assessore, i quali con una lettera sostenevano invece che sia il programma come il coinvolgimento delle forze politiche nelle decisioni erano state rispettate, rimettendo il loro mandato nelle mani della maggioranza ma facendo intendere che non avevano nessuna intenzione di uscire da quest'ultima. Conferme di appartenenza alla coalizione giungevano invece da selle e dai rossomuri. Qualche giorno dopo, con motivazioni analoghe, giungeva la decisione del partito dei Sardi, che già aveva manifestato qualche malumore con l'astensione di Luciano Curella al lato della votazione sul DUP, di uscire dalla maggioranza. Ma anche qui due consiglieri, Maura Cossu, attuale vice sindaco e Mario Piras, facevano sapere di non voler uscire, per cui ad oggi si troverebbe all'opposizione solo Luciano Curella. Con una lettera accorata, il sindaco Luigi Mastino, fornendo date ed occasioni, affermava di aver sempre rispettato il programma e di aver coinvolto tutti. Ora qualche segnale di pace arriva dal partito Sardi d'Azione, che partendo dal progetto degli Argini sul Temo, particolarmente contestati perché prevedevano in qualche punto un muraglione di sei metri, nonché la sopraelevazione dell'argine presso le conce, vede qualche nota positiva nell'annuncio del sindaco Mastino di modifiche al progetto con diverse soluzioni tecniche. Bene, con questo è davvero tutto. Non vi rimane che auguravi un buon proseguimento e darvi appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.